Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, oggi giornata particolare per i fedeli siracusani e non soltanto l'ottava di Santa Lucia, la patrona fa il ritorno nella sua sede naturale a partire dalle 16 ovvero torna in cattedrale. Stasera Santa Lucia ritorna in cattedrale nella sua abituale dimora. Nel giorno dell'ottava in cui il simulacro della patrona sarà ricollocato nella sua nicchia si conclude il programma liturgico e religioso iniziato stamani alle 11 con la concelebrazione preseduta da Monsignor Giuseppe Costanzo, arcivesco emerito di Siracusa. Alle 16 l'uscita dalla Basilica di Santa Lucia dove è stata in custodia per una settimana con l'inizio della processione verso Piazza Duomo. Il corteo si snoderà attraverso Via Ragusa e Piazza della Vittoria, passerà come di consueto dall'ospedale per il saluto ai malati, proseguirà lungo Corso Gelone per poi puntare verso Ortigia e tornare in cattedrale. Dopo le polemiche di una settimana fa torneranno i ceri accesi tra devoti e fedeli. Alla processione parteciperanno anche gli alunni della banda musicale dell'Istituto Comprensivo Carolo Itiwa, la banda della città di Siracusa e il complesso bandistico Acrai di Palazzolo Acreide. Durante il tragitto è prevista una breve sosta al Santuario della Madonna delle Lacrime per l'omaggio dell'Unitalsi, mentre in Corso Gelone ai Berretti Verdi si alterneranno i Vigi del Fuoco per portare la Santa. Il simulacro proseguirà quindi la processione per Via Catania e Corso Umberto. All'arrivo sul Ponte Umbertino si assisterà ai tradizionali e colorati fuochi d'artificio in onore della patrona. La processione riprenderà per Piazza Pancali, Corso Matteotti, Via Roma, Piazza Minerva e terminerà in Piazza Duomo. In cattedrale avverrà la conservazione del simulacro argente o nella nicchia, dove rimarrà fino alla prima domenica di maggio, giornata dedicata a Santa Lucia delle Quaglie, la festa del patrocinio. Crisi economica e lavoro che manca questa mattina, la sintesi di Cigelle Cislewil. I dati fanno paura nell'industria, persi 4.000 posti di lavoro. Un 2017 drammatico per quanto riguarda lavoro, occupazione e zona industriale. Il sindacato unitario Cigelle Cislewil questa mattina ha compiuto una disamina di come siano andate le cose per il territorio siracusano nel corso dei 12 mesi che stanno per concludersi. Un consultivo 2017, il sindacato unitario sta tirando le fila, comunque un anno drammatico. Il 2018 avete detto non si presenta più sorridente. L'anno che ci lasciamo alle spalle continua ad essere un anno difficile per il nostro territorio. Gli indici danno ancora la disoccupazione in crescita, abbiamo un allentamento della legalità anche in ambito lavorativo, gli investimenti annunciati sono ancora bloccati e questo mantiene il territorio in una situazione di profonda sofferenza. Una crisi che rischia di allontanare anche i giovani che qui a Siracusa si preparano professionalmente e poi sono tutte competenze che purtroppo vengono esportate. Soprattutto quello credo che la sfida del 2018 deve rappresentare il ritorno a casa di tantissimi giovani e soprattutto il blocco dell'esito di tanti giovani laureati che vanno poi a sprigionare le potenzialità in altri paesi e in altri territori. Quindi è fondamentale che il tema del 2018 sia il lavoro per i giovani e non solo. Non è solamente un fatto che sono i giovani, noi abbiamo l'esigenza di ripristinare tutta una serie di equilibri in questa provincia per arrivare a costruire il lavoro, costruire delle infrastrutture che creano lavoro ed essere in condizione di rilanciare questa provincia perché abbiamo fatto dei passi indietro non indifferenti negli ultimi anni che ci hanno creato una povertà e una qualità della vita come è scritto nel nostro documento che abbiamo dato. Stare come qualità della vita a 106 posto su 110 è un fatto estremamente estremamente negativo. Speriamo che il 2018 rilanci e ci porta in condizione più accettabile. E a proposito di festività la Guardia di Finanza ha sequestrato ben 400 kg di botti di capodanno. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 380 kg di artifici pirotecnici di quarta e quinta categoria che erano custoditi in un deposito abusivo adibito allo stoccaggio di botti illegali. I finanzieri della compagnia Retosea insospettiti dal movimento di un'autovettura nella zona abitata del centro cittadino hanno eseguito un controllo in un garage privato. Le successive operazioni di perquisizione hanno permesso ai militari di rinvenire oltre 10.300 razzi esplodenti riuniti in batteria e di segnalare alla procura un cinquantenne sieno che hanno ritenuto responsabile dei reati di fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denunce alle autorità competenti. Una vera e prova Santa Barbara, quella trovata dai finanzieri, considerato che il deposito era destinato al ricovero di materiale altamente infiammabile e anche in considerazione della notevole quantità di materiale deflagrante presente sul posto che rappresentava un elevato potenziale esplosivo che in caso di innesco accidentale avrebbe provocato notevoli danni nelle zone circostanti. Le indagini ancora in corso sono orientate a individuare ulteriori autori dell'illecito traffico e soprattutto a risalire alle rotte commerciali di approvvigionamento. L'attività si inquadra nel più ampio contesto del sistema e dell'azione di controllo economico e finanziario del territorio, poste in essere la Guardia di Finanza. Il CGA ha rigettato l'istanza di astensione presentata da Open Land nei confronti di due componenti, il collegio che dovrà decidere sul ricorso presentato dal comune relativo al maxi risarcimento. Rimarrà inalterato il collegio del Consiglio di Giustizia Amministrativa chiamato a decidere sul ricorso avanzato al comune capoluogo per la revocazione della sentenza relativa al risarcimento e il danno alla società Open Land. Il CGA ha emesso un'ordinanza con cui ha rigettato l'istanza di astensione nei confronti di due componenti del collegio presentata alla difesa di Open Land in relazione all'azione civile proposta davanti al Tribunale di Caltanissetta. L'istanza depositata nel corso e l'udienza della scorsa settimana riguarda due componenti del collegio che a giudizio dell'Open Land avrebbero avuto responsabilità rispetto alla sentenza del CGA pronunciata nel giugno scorso. Con quella sentenza del CGA è stata revocata la Presidente del 2015 disponendo l'esame dell'originale domanda di quantificazione dei danni di Open Land, in parte respinta. Il collegio ha ritenuto che l'istanza dove è qualificata come astensione sia priva di rilevanza processuale, essendo l'astensione rimessa all'iniziativa e la votazione del magistrato. Entrando nello specifico, il CGA ha disposto che si proceda con il rinnovo della consulenza tecnica alla stessa dottoressa Marcella Caradonna. Il CTU aveva rappresentato la propria impossibilità a svolgere la consulenza stante l'assenza nel fascicolo dei necessari elementi di prova documentale e sul presupposto che non fosse possibile accedere ai documenti contenuti nei fascicoli relativi ai ricorsi. Il CGA insomma rinnova l'incarico di consulente alla dottoressa Caradonna per rispondere sempre ai quesiti posti con la sentenza relativa alle voci, canoni, locazione, perdite dei finanziamenti bancari e interessi, si intende, delle somme prese in prestito. Il collegio ha fissato quindi per il 9 maggio la Camera di Consiglio per definire il ricorso avanzato al Comune di Siracusa. Bentornati, seconda parte del telegiornale, alle 4 di questa mattina gli agenti di polizia sono intervenuti in via Montorsoli per l'incendio di una Toyota Yaris, le fiamme hanno danneggiato anche un'altra automobile sul posto, i vigili del fuoco sono in corso, le indagini e ad Avola invece vi raccontiamo dell'irruzione in farmacia di un uomo che porta via il registratore di cassa con oltre 1.500 euro. Un uomo ha fatto irruzione all'interno di una farmacia impossessandosi dell'incasso della giornata senza che i titolari avessero il tempo e il modo di intervenire. L'episodio è avvenuto ad Avola poco prima delle 14.30 in via San Francesco d'Assisi. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato avolese che stanno eseguendo le indagini, il farmacista e la moglie hanno riferito di avere sentito un forte rumore di vetri infranti e di avere visto un uomo con il volto nascosto da uno scaldacollo che dopo aver infranto la vetrina con un mattone si è impossessato la cassetta in metallo del registratore di cassa con dentro 1.620 euro e si è dato alla fuga. Gli agenti hanno rinvenuto poi in una via cittadina la cassetta del registratore di cassa con all'interno 124 euro che sono stati riconsegnati al legittimo proprietario sono intanto in corso le indagini. Schiamazzi notturni, rumori molesti nel rione Trecolli di Pachino interviene la polizia che chiude anche un bar. Dopo le continue segnalazioni per disturbo arrivate dagli abitanti del quartiere Trecolli a Pachino i poliziotti e il commissariato locale hanno effettuato servizi di controllo del territorio. Quella zona da tempo è il luogo di ritrovo di giovani pachinesi che scorrazzando quei loro scooter incidono negativamente sulla tranquillità dei residenti. I servizi hanno permesso di controllare 245 persone, 143 veicoli, constatare 31 violazioni al codice della strada e poi operare quattro fermi amministrativi per mancato uso del casco, tre sequestri per mancata copertura assicurativa. Inoltre l'attività del commissariato ha comportato anche la chiusura di un bar della zona il cui titolare esercitava la propria attività privo delle necessarie autorizzazioni. La presenza della polizia nella zona Trecolli ha favorito quindi la diminuzione del numero di giovani frequentavano la piazza e la drastica diminuzione dei loro schiamazzi e dei rumori molesti causati dai loro scooter. Deteneva illegalmente in casa pistole e coltello. La scoperta è stata fatta dai poliziotti e il commissariato di Augusta che hanno eseguito perquisizione domiciliare. Le manette sono così scattate ai polsi di un Augustano di 57 anni perché in seguito alla perquisizione è stato trovato in possesso di una pistola marca Bruni modello 92 calibro 9 priva di matricola completa di caricatore rifornito di 7 cartucce. Nella circostanza sono stati sequestrati anche un'arma da punte da taglio con una lama da 20 centimetri e per accertamenti un fucile ad aria compressa per verificare se quest'ultimo sia stato alterato. L'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione e messo agli arresti domiciliari. Un atto di indirizzo sulle politiche scolastiche l'ha proposto il consigliere comunale Palestro presentando un atto di indirizzo. Avviare un nuovo processo di politiche scolastiche del territorio di Siracusa a competenza comunale, istituti comprensivi, infanzi, elementari e medie per affrontare e risolvere i problemi di sicurezza degli edifici scolastici ma anche dal punto di vista gestionale. E' questo l'atto di indirizzo presentato in consiglio comunale dal consigliere Alberto Palestro. La premessa è che il comune di Siracusa con qualche eccezione come quella di via Alcibiade è proprietario di quasi tutti gli edifici che ospitano gli istituti scolastici del territorio, scuole di infanzia, elementari e medie ripartiti in istituti comprensivi. L'obiettivo sarebbe quello di istituire un processo di rete tra gli attori principali per preservare le scuole in tutti i quartieri della città, quale presidi di legalità e dello Stato, elevandone la qualità dell'offerta formativa, armonizzandole e riequilibrandone le modalità gestionali. Palestro propone di concertare attraverso un protocollo di intesa a carattere territoriale le iscrizioni che ricadono solitamente tre mesi di gennaio e febbraio, fermo restando di garantire il diritto dovere allo studio e all'offerta formativa. Occorre rivedere le assegnazioni territoriali degli istituti scolastici per garantire l'equilibrio di presenza e legalità dello Stato su tutto il territorio e rivedere tutta la pianta organica degli istituti comprensivi attraverso un'analisi territoriale in particolare. Tra le proposte avanzate, quella di assegnare l'istituto di via Sbesta, unico istituto del quartiere Pipoli, all'undicesimo istituto comprensivo Archia per la naturale proseguizione dei numerosi studenti e le elementari e materne del complesso di via Montetosa, assegnare il nuovo istituto di via Calatabbiano-Via Drano al decimo istituto comprensivo, in quanto ricadente nel quartiere Tiche, assegnare il nuovo istituto di via Temistocle, ovvero il quartiere Accradina, al sesto istituto comprensivo Martoio. Il commissario dell'ASP di Siracusa faccia un passo indietro e riammetta in servizio i cinque tecnici licenziati all'esortazione del sindacato FSI. Il coordinatore territoriale della FSI, Natale Salvatore Romano, e quello regionale, Giuseppe Alicata, puntano il dito contro il commissario dell'ASP di Siracusa, Salvatore Brucaletta, che, avviando le procedure di reclutamento del personale, ha licenziato il 15 dicembre cinque tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Si tratta di professionisti che hanno prestato servizio in maniera continuativa all'ASP di Siracusa. Alcuni di essi, per oltre sette anni, negano loro di godere per soli 15 giorni del beneficio della legge Madia. La norma è attesa da quel personale che aspettava da tempo una soluzione definitiva al precariato con l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2018. I benefici della legge si applicano esclusivamente a coloro che hanno lavorato in maniera continuativa per almeno 36 mesi. Appare strano, a parere dei coordinatori della FSI, come nella stesura del piano triennale del fabbisogno dell'anno in corso, i tecnici di laboratorio non abbiano ottenuto la stessa attenzione, come invece è avvenuto per le altre figure professionali della stessa categoria, ma di profilo diverso. Il 40% delle apparecchiature dell'ospedale Umberto I sono guaste e il licenziamento dei tecnici sanitari di laboratorio di analisi contribuirà ad aggravare la già deficitaria sanità siracusana. Il sindacato sostiene che per la necessità di garantire i servizi delle varie strutture vengono spesi 4 milioni di euro di fondi contrattuali per lo straordinario e quasi 600 mila euro di fondi per progetti di interesse aziendale. Come può trovare riscontro la legge Madia quando i lavoratori vengono posti in attività lavorativa di reperibilità in turni con orario enormemente superiore a quello previsto dalla legge? Bene, questo è tutto, così si chiude il telegiornale. Vi auguriamo un buon proseguimento di programmi. L'appuntamento è con la nostra diretta però per il ritorno del simulacro di Santa Lucia dalla Borgata fino a Piazza Duomo e poi la Cattedrale, la sua sede naturale. Vi rimandiamo alla nostra diretta di tutta la cerimonia. Con questo è tutto, vi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.